Questa sera, per il fantastico mondo Disney, i delfini. Capaci di comunicare emozioni e sensazioni. Basta fermarsi un attimo per guardarli e ascoltarli. E Vicky lo sa bene. È come se mi parlasse. È lei che è stata scelta da una famiglia di delfini. E saranno Vicky e i suoi amici a proteggerli da chi è convinto di poter trattare i delfini come oggetti. E l'amore e l'amicizia vinceranno in un paesaggio da sogno. Vicky e i delfini. Questa sera alle 20.30 nel fantastico mondo Disney.